Nessun allarmismo per il presidente Saga Nicola Mattoscio, la notizia trappelata ieri è quella dell'arrivo della Guardia di Finanza negli uffici della società di gestione aeroportuale di Pescara, che prosegue il lavoro avviato nel luglio scorso dalla polizia forestale. Al vaio ci sarebbero i bilanci della società. È nota che c'è un'indagine sull'attività gestionale della società Saga, in virtù di denunce che noi non conosciamo, dal punto di vista della mia personale responsabilità mi auguro approfondimenti rapidi e in ogni direzione. Relativamente alla nostra attività e responsabilità non c'è un solo atto che non meriti attenzione. Aperti e trasparenti a qualunque disponibilità collaborativa per chi vuole conoscere fatti e verità relativamente alla gestione. A dare avvia l'indagine fu un ex consigliere d'amministrazione Saga, il comandante Emilio Polidoro, che oggi ripercorre la vicenda. Da quella problematica scaturiva che negli anni e anche nell'anno in corso, 2015, Saga avrebbe avuto dei grossi problemi di bilancio, per cui non si sapeva come si procedeva nel corso dell'anno. E se avessimo continuato a sopportare un contratto insostenibile per le finanze della Saga, sarebbe stato messo a rischio la continuità aziendale. Per questo motivo io ho scritto una lettera ben motivata e da quella lettera è scaturito il finimondo internamente alla Saga con il presidente Mattoscio che decise in quella sede, in quel consigliere d'amministrazione, di dimettersi insieme al suo vicepresidente. Ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica nell'ottobre del 2015 ed oggi, anche se dopo, credo certamente, la Procura ne sta facendo uso andando a guardare sia i bilanci della Saga del 2015 che i bilanci precedenti, credo, e sia tutti i contratti di Ryanair, così come riportato da qualche quotidiano. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.